Le licenze creative commons sono tecnicamente licenze di libera distribuzione di opere dell'ingegno. Sono sostanzialmente dei documenti che noi alleghiamo alla nostra opera, noi autori alleghiamo alla nostra opera, quindi al nostro libro, al nostro brano musicale, al nostro video, per spiegare agli utenti quali sono i diritti che intendiamo esercitare e in via esclusiva quali diritti invece decidiamo di concedere liberamente. Infatti il motto delle licenze creative commons è alcuni diritti riservati, che fa un po' il verso a tutti i diritti riservati tipico del modello copyright, del modello copyright tradizionale. Quindi l'autore che licenzia la sua opera con creative commons non la sta tutelando maggiormente, semplicemente la sta distribuendo in un regime più elastico rispetto a quello che è il copyright tradizionale, quindi rilasciando liberamente alcuni usi e mantenendo a sé solamente alcuni diritti esclusivi. Grazie.